buonasera bentornati a questo nuovo appuntamento di uricon qui dalla sede di poi di montegranaro sono con capitano uricon però no scusate è filippo tassani scusate era abituato a vederlo spolerato chi è capitano uricon non si fa oggi ciao filippo ciao michele oggi siamo qui di cosa parliamo oggi parliamo di sportello del consumatore esatto che cos'è spiegaci un po allora sportello del consumatore tutto ha inizio l'anno scorso quando grazie al progetto nazionale abbiamo diciamo esplicato il servizio dello sportello covid 19 visto il supporto significativo che ha generato l'iniziativa il crcu che il comitato regionale consumatori utenti ha dato la possibilità ricordiamo dove uricon fa parte attiva esatto insieme ad altre sei associazioni per i consumatori certo si sono creati nella regione marche questi sette sportelli proprio per per dare ancora un maggior supporto al consumatore anche se fortunatamente non lo diciamo troppo forte nel discorso covid sembra si stia un attimino affievolendo rispetto a quello che era l'anno scorso speriamo speriamo che stiamo arrivando un aspicio perché è un buon aspicio siamo arrivati alla conclusione di questa veramente tragedia che poi vabbè adesso si sta sommando pure ad altri però già che speriamo che non riparta a novembre nel periodo giornale soprattutto comunque cosa fa questo sportello allora questo sportello diciamo che dà supporto al consumatore per quanto riguarda doppie fatturazioni costi nascosti in bolletta conciliazioni questo sportello praticamente oltre a oltre a me che diciamo ne sono responsabile in realtà è composto da altre tre figure che sono due conciliatori e neoreschini e giovanni battista mariani che rispettivamente il vicepresidente il presidente regionale utico e gerardo marcantoni come avvocato legale quindi in realtà diamo anche la possibilità di andare in conciliazione paritetica al consumatore quindi come funziona si fa un reclamo inizialmente innanzitutto un servizio gratuito quindi il consumatore chiama espone il suo reclamo nel momento in cui il reclamo passa al conciliatore e va in conciliazione entro i termini minimi che sono 45 giorni si aspetta la risposta dell'altra parte della controparte che può essere un'utenza telefonica piuttosto che una energia o trasporti siamo molto forti anche nell'ambito dei trasporti e trasporti in quale ordine in che senso trasporti nel senso che nel momento in cui ci sono ritardi ferroviari noi facciamo sia trasporto su binario che su gomma certo e allora diciamo che lì si può fare leva e chiedere un risarcimento per quanto riguarda diciamo disagi creati dovuti al ritardo se si arriva e se c'è ritardo entro oltre un certo lasso di tempo se non erano esatto ne ricordo uno nella fattispecie di un passeggero che doveva andare in sicilia in aereo ha avuto diciamo ha dovuto disdire non per covid ma per motivi di salute della moglie e allora siamo riusciti a dimostrare le vere ragioni della disdetta del volo e quindi il consumatore ha avuto il risarcimento intero del biglietto beh sì sì diciamo che il questo sportello prevede la divulgazione tramite diversi strumenti che sono sia lo sportello fisico ricordiamolo che quindi al pidenze sud a monte granaro nella sede regionale udicon e sia online attraverso il sito www.udiconmarche.org diciamo l'utente può mandare anche una mail certo all'indirizzo sportellomontegranaro chioccio laudiconmarche.org oppure contattarci tramite whatsapp al numero 389 440 9409 quindi in siamo riusciti oltre che alla pagina facebook famosissima che siamo riusciti a raggiungere quasi 600 like quindi siamo abbastanza state crescendo state crescendo notevolmente assolutamente assolutamente c'è un bellissimo riscontro anche perché comunque le aspettative di questo progetto sono abbastanza alte perché prevedono più di 500 pratiche svolte quindi ci sarà anche a fine di questo anno e mezzo perché il progetto dura un anno e mezzo ci sarà una rendicondazione di tutte quelle che sono gli interventi e come dire le richieste abbiamo dovuto implementare la nostra rete telefonica con una segreteria proprio per dare la possibilità al consumatore di lasciare un messaggio quindi diciamo a livello pratico come funziona? cioè io consumatore ho questo disagio ho questa problematica vi contatto sulla segreteria o sul sito diciamo o sul telefono il numero che ci ha dato che va in superimpressione e da lì cosa c'è? voi li contattate come funziona? sì dopo il primo contatto c'è un diciamo un lasso di tempo abbastanza breve cerchiamo di farlo nel breve tempo possibile dove c'è una ricerca della problematica noi ci avvoliamo anche dei legali giù a Roma della sede nazionale Udicon che ci danno sempre una direzione molto ben precisa rispetto al problema e quindi riusciamo sia internamente che grazie al supporto di Roma di capire qual è la problematica e risolverla in tempi brevi grazie anche ai nostri conciliatori quindi diciamo sì il processo è questo chiamata ricerca e sviluppo e poi diciamo la... cioè proprio studiate la pratica, l'analizzate, l'interfacciate con l'ente diciamo che ha creato il disagio, il diseguito esatto e a quel punto è andata a risolvere per conto del consumatore esatto il consumatore deve sostenere dei costi, deve... come funziona? no in realtà il primo contatto è del tutto gratuito poi se c'è da fare particolari azioni legali quello ovviamente ha un costo convenzionato per i nostri associati però diciamo che la maggior parte degli interventi fino adesso sono stati del tutto gratuiti nel senso che comunque è anche contemplato in quello che è il progetto chiaro che nel momento in cui c'è il primo contatto in base a quello che verrà dopo, verrà fatto il tesseramento l'associazione che però diciamo ha dei costi annuali risori rispetto a quelle che sono le problematiche che ci troviamo a dover risolvere, no? vabbè logicamente il tesseramento quello è quasi... è quasi d'obbligo ma non è quello del costo ovviamente sì, più che altro è quello che dà diritto al consumatore di accedere a quei servizi gratuiti nel senso che i nostri servizi sono gratuiti se a monte ci sta il tesseramento che dà anche a noi come dire la possibilità e la tutela della gestione dei dati sensibili del cliente stesso nel senso che è una cosa molto importante il tesseramento non è tanto il costo del tesseramento è il mettere noi in condizioni tali per cui possiamo diffondere... quindi rendere l'audicon direttamente partecipe della problematica del consumatore esatto, è come se fosse una delega tutto vera e propria cioè nel senso niente di più niente di meno certamente infatti è quello che... ma questo sportello del consumatore quindi per l'audicon marchia soltanto qui a Montegranaro o uno può anche accedere negli altri vari uffici che avete sul territorio? no diciamo che a livello fisico è solo a Montegranaro però ricordiamo che per far parte del CRCU bisogna essere in tutte e cinque le province quindi di conseguenza noi facciamo un po' come dire da da punto di smistamento di tutte e cinque le province quindi lavoriamo anche sulle altre di province non solo quello di Fermo di Montegranaro ok, quindi le altre sedi locali il consumatore che ad esempio è residente a Civitanova chiama la sede di Civitanova e Civitanova la passa qui ah ho capito è uguale per Ancona uguale per la provincia di Pesero quindi fanno un po' da collettore esatto quindi diciamo è uno degli strumenti principali che l'audicon ha per difendere i propri associati esattamente è proprio diciamo la massima espressione lo strumento più grande che abbiamo in possesso per mettere in atto quello che sono diciamo le finalità della società giustamente se non rimarebbero solo belle parole scritte e niente di più no, dobbiamo dire che Udico ha un sicuro da distingue proprio per questa cosa cioè poche parole e molti fatti quindi per andare ad essere veramente in difesa dei consumatori assolutamente molto bene Filippo guarda abbiamo ti ringrazio per averci spiegato questo servizio che avete rinnovato che state sviluppando in maniera così diciamo efficace sul territorio a tutela dei consumatori rinnoviamo in sovraimpressione i numeri di telefono e gli indirizzi per contattare qui Filippo Tassan come responsabile dello sportello del consumatore e l'audicon in generale vi diamo saluto Filippo saluto i nostri spettatori vi diamo appuntamento alla prossima puntata ciao Michele ciao a tutti grazie salve a tutti ciao 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 ciao